Il ritorno sul parchè di San Marcellino non è stato così piacevole oggi, avete trovato con la tua San Mignato una Fiorentina Basket che nel terzo quarto vi ha messo sotto anche perché ha iniziato a difendere molto più tosta, una squadra molto fisica, però San Mignato ci crede sempre e finora avete dimostrato quanto valete. Sì allora innanzitutto ci tenevo a ringraziare come sempre tutto il palazzetto di San Marcellino per l'affetto che come nel precampionato mi hanno dimostrato anche stasera, fa sempre piacere chiaramente. Quando guarda la partita hai detto bene, è quello che succede quando vai a incontrare squadre costruite così, costruite per far bene, per provare a fare un salto importante. Noi siamo venuti qua a giocarci le nostre carte, abbiamo tenuto botta al primo tempo e ci eravamo premessi all'inizio del secondo tempo di restare lì con la testa e purtroppo abbiamo fatto qualche passo indietro di fronte alla loro difesa molto più alta e di fronte al loro attacco molto più aggressivo. E infatti ne vale del parziale del terzo quarto. Abbiamo avuto una bella reazione che è una caratteristica importante che abbiamo già fatto vedere, però purtroppo quanto squadre di questa caratura non basta. Andiamo via con in mente il quarto quarto e nulla. Andiamo avanti con il nostro percorso pensando alla trasferta successiva. La classifica è corta, molte squadre tra 8 e 6 punti, è un campionato che sembra molto più livellato rispetto allo scorso anno, magari ancora è presto, però da quello che hai visto finora cosa ne pensi? Sì, senza altro. Rispetto all'anno scorso non c'è magari la top e quella magari di bassa fondo classifica. Sappiamo quali sono le squadre costruite bene per fare molto bene in questo campionato, ma sappiamo altrettanto che sono molte più le squadre, compresi noi, che vogliono fare il proprio campionato, vogliono mettere la propria impronta su questo girone e campionato. Sarà così come si vede dalle prime cinque giornate fino alla trentesima giornata, dove ogni giornata è a sé, come noi possiamo venire a Firenze, giocare con Omegna e rischiare di fare la partita, ma come è uguale puoi giocare in casa con squadre magari del tuo livello e rischiare di perdere. Le partite vanno giocate dal primo al quarantesimo minuto e poi al termine della partita vedi il risultato. Possono finire tutte di uno o di meno uno, ma difficilmente ci saranno degli scarti importanti in tutte le partite.